Trasforma la sua edicola in una centrale di spaccio, non solo giornali dunque, ma anche droga e la passione per la coltivazione di marijuana. E' quanto contestato al 39enne di Ostuni Paolo Ungaro, arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione e fin di spaccio di sostanze superfacenti. Ungaro, proprietario di un'edicola nel centro storico della Città Bianca, nel corso di perquisizione, è stato trovato in possesso di 230 grammi di marijuana, 5 piante della medesima sostanza alte 1,20 m circa, 80 grammi di hashish e vario materiale utile per il confezionamento delle dosi e la coltivazione delle piante. Lo stupefacente è stato rinvenuto in diversi luoghi dell'edicola. Sotto il bancone gli investigatori hanno scovato 9 vasetti in vetro contenenti marijuana e 3 dosi di hashish. Invece, sugli scaffali espositori a muro, celati tra giornali e riviste, 21 dosi di hashish avvolte in un cellophane e custodite in una scatola di plastica. Ed ulteriori 10 vasetti in vetro contenenti marijuana. Non finisce certamente qui. Nell'abitazione, poi, all'interno di un cassetto di un mobile in camera da letto, sono state rinvenute 2 dosi di hashish, oltre 3 brilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi. Nel salone, invece, una vera e propria serra, con la struttura costituita da un telaio di tubolari in ferro dell'altezza di 2 metri, coperto da un telone di colore nero. L'intera struttura presenta il rivestimento interno di fogli di alluminio termoriflettenti e dotata di impianto di illuminazione, riscaldamento e a reazione perfettamente funzionanti. Nella serra, poi, sono state rinvenute 5 piante di marijuana in fiorescenza ed altri 24 vasetti in vetro contenenti marijuana. La droga e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Il 39enne, invece, su disposizione dell'autore giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in arresti domiciliari. Grazie a tutti.